Buone notizie per l'occupazione giovanile. Le imprese Ance di Teramo assumeranno gli allievi del corso finanziato dalla Regione Abruzzo per operatori dile in corso di svolgimento presso Eventitalia. Sono in procinto infatti di essere sottoscritti i contratti di apprendistato della durata di due anni in favore dei 13 partecipanti. Le assunzioni che saranno effettuate presso le principali imprese dili del territorio provinciale aderenti a Lance consentiranno agli allievi di assolvere all'obbligo scolastico, conseguire la qualifica professionale e allo stesso tempo di inserirsi nel mercato del lavoro. Abbiamo tanto bisogno di mano d'opera e abbiamo avuto la fortuna insieme a Eventitalia di vincere due bandi regionali per la formazione di operatori dili. Il primo bando è già alla seconda annualità e ci sono circa 15 ragazzi che adesso passeranno, la prima annualità era tutta teoria in aula. Adesso invece da febbraio-marzo faranno anche la parte in cantiere dove saranno assunte dalle imprese che li ospiteranno e prenderanno lo stipendio cofinanziato dalle imprese e dalla Regione. Poi c'è il terzo anno che è tutto diciamo in pratica, è tutto presso le aziende e anche lì loro percepiranno uno stipendio e alla fine otterranno la qualifica di operatori dili e magari potranno ottenere sicuramente dei contratti a tempo indeterminato. Considerando la forte necessità di contrastare l'abbandono scolastico in Italia e le difficoltà di inserimento lavorativo dei giovani della nostra provincia si tratta di un risultato che ci rende fortemente orgogliosi, ha dichiarato Floriana Dugo, amministratrice di Eventi Italia. Lancio questo grido d'allarme di quei giovani, alle famiglie avvicinate al mondo edile perché tutto sommato è un mondo ben retribuito e che noi abbiamo le tariffe che sono più alte del mercato degli altri settori. I nostri contratti di lavoro sono per lo più quasi al 95 per cento a tempo indeterminato. Penso che tutti ci possono entrare a tutti potrebbe piacere, adesso è finita l'idea del muratore, del manovale che sta lì a mettere la calce, adesso è quasi tutto meccanizzato, perciò io invito i giovani ad entrare in questo mondo.